Alessandro Magno, noto anche come Alessandro III di Macedonia, è stato uno dei più grandi conquistatori della storia. Nato nel 356 anno corrente, Alessandro divenne re di Macedonia all'età di soli vent'anni, dopo l'assassinio di suo padre Filippo II. Da quel momento in poi, intraprese una serie di campagne militari che lo portarono a creare uno dei più vasti imperi della storia antica. Fin da giovane, Alessandro mostrò un grande interesse per la guerra e la strategia militare. Fu educato dal famoso filosofo Aristotele e ricevette una formazione completa in diverse discipline, tra cui matematica, filosofia e letteratura. Questa educazione eccezionale gli diede una visione del mondo molto ampia e influenzò il suo modo di pensare e agire come condottiero la prima grande impresa militare di Alessandro fu, la conquista dell'impero persiano. Nel 334 anno corrente, attraversò l'Elesponto con un esercito di circa 35.000 uomini e iniziò la sua campagna contro i persiani. Inizialmente incontrò poca resistenza e riuscì a sconfiggere l'esercito persiano in diversi scontri importanti. La sua vittoria più celebre fu quella contro il re persiano Dario III nella battaglia di Isso nel 333 anno corrente. Questa vittoria segnò un punto di svolta nella guerra contro i persiani e consolidò ulteriormente il potere di Alessandro come comandante supremo. Dopo aver conquistato l'impero persiano, Alessandro si spinse sempre più verso est, raggiungendo l'India settentrionale. Le sue campagne militari non erano solo finalizzate alla conquista, ma anche alla diffusione della cultura greca. Fondò numerose città che portavano il suo nome, tra cui Alessandria d'Egitto, che divenne un importante centro culturale e commerciale. Alessandro era noto per la sua abilità tattica e strategica sul campo di battaglia. Era in grado di adattarsi rapidamente alle situazioni mutevoli e prendere decisioni decisive che spesso sorprendevano i suoi nemici. Era anche un grande leader carismatico, in grado di ispirare i suoi soldati a seguire lui fino alla fine. Tuttavia, non tutto fu rose e fiori per Alessandro. Durante le sue campagne militari, dovette affrontare numerose rivolte e complotti contro di lui. Inoltre, il suo impero era così vasto che divenne difficile da governare in modo efficace. Questi problemi si acuirono dopo la sua morte prematura nel 323 anno corrente, all'età di soli 32 anni. Nonostante la sua morte precoce, l'eredità di Alessandro Magno è sopravvissuta nei secoli successivi. Il suo impero si frammentò poco dopo la sua morte e diede origine a una serie di regni ellenistici indipendenti. La cultura greca si diffuse ampiamente nell'Oriente grazie alle conquiste di Alessandro. In conclusione, Alessandro Magno è stato uno dei più grandi condottieri della storia antica. Le sue imprese militari sono state leggendarie e hanno avuto un impatto duraturo sul mondo antico. La sua abilità tattica, la sua leadership carismatica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.